Benvenuto in questo Virtual Tour, io sono Angelo Camideri Addis, Mr. Affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Varedo, in zona Valera, in un trilocale non arredato. Ingresso su soggiorno, ampio e luminoso, con porta-finestra che conduce al balcone. Abbiamo un appartamento all'interno di un contesto condominiale di nuova costruzione del 2023, dotato di domotica, aria condizionata, riscaldamento al pavimento e fotovoltaico nelle parti comuni condominiali. Dal soggiorno abbiamo un accesso diretto ad un disimpegno che conduce al bagno, dotato di doccia, sanitari e finestra. Completano la locazione, cantina e posto auto inclusi. Ampia cucina abitabile, molto spaziosa, e con porta-finestra e balconcine. All'interno del soggiorno troviamo le scale interne che conducono al piano superiore, dove troviamo la zona notte, manzardata alta e contraria a vista in degno, prima stanza da adibire a cameretta o studio, con finestra. camera cadetto matrimoniale, con le stesse caratteristiche ed uno spazio da adibire a cabina armadio. secondo bagno con postazione lavatrice, lucernario, sanitari e vasca. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.limbiate.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza. www.limbiate.soloaffittibrianza.com www.limbiate.soloaffittibrianza.com